Radio Radicale, che cosa sta combinando Elon Musk con Twitter e su Twitter? Dunque le prime mosse del nuovo capo di Twitter, utilizzerei questo termine, eviterei dei termini da confindustria, si sta comportando veramente male, sta diciamo aumentando le preoccupazioni di tutti gli osservatori internazionali, al punto che è scesa in campo anche l'ONU. Allora, che cosa sta succedendo? Innanzitutto ne vogliamo parlare noi con uno dei principali esperti di questioni informatiche e di web, che è Stefano Quintarelli, che come tutti sapete è il padre dello speed. Allora, che impressione ha di come si sta comportando Elon Musk su Twitter e soprattutto volevo chiederle se lei comincia ad essere preoccupato? No, preoccupato no, nel senso si sta muovendo in modo un po' disarticolato diciamo. Allora, volendo ricostruire un po' la storia, c'è stata una sequenza di eventi che sono stati, primo Musk che si è lamentato del fatto che fosse stato bannato Trump da Twitter per aver violato le regole del social network, dicendo che questa è una cosa che non si fa, va difesa della libertà di espressione, eccetera. Io già lì avevo, pensavo che tutto sommato ci fosse un po' una motivazione politica. Subito dopo lui ha detto che avrebbe votato per i repubblicani, che non avrebbe più votato democratico, eccetera. Quindi questo allineamento c'è. Credo che all'epoca dissi che secondo me questo allineamento di Musk con i repubblicani e non solo di Musk, di tutta quella che in California viene chiamata, negli Stati Uniti viene chiamata in gergo la PayPal mafia, cioè il gruppo di persone che hanno fatto un sacco di soldi intorno a PayPal e con le attività successive a PayPal, la PayPal mafia, si era tutta allineata sui repubblicani, soprattutto su Trump. E quindi sembrava proprio come dire, io mi appoggio a Trump. Perché? Perché in quel momento la commissione d'inchiesta sugli eventi, sull'insurrezione del 6 gennaio non aveva ancora prodotto grandi evidenze e Trump stava volando verso un chiaro successo nelle elezioni di midterma. Quindi a me e ad altri era sembrato come un allineamento politico nei confronti di Trump, di sostegno a Trump, perché tutto sommato questi potentati americani in qualche modo dipendono dalla politica americana. Cioè sicuramente per Tesla c'è una questione di regolamentazione, per le stazioni di infrastruttura per la ricarica sulle autostradi interstattali, SpaceX ovviamente dipende dai fondi pubblici, Boring Company, quella che fa i treni sotterranei, dipende dai permessi sotterranei, insomma. Cioè c'è un... dipendono fortemente, dipende fortemente dal governo, dall'esecutivo. Per cui pensavo che fosse una cosa un po' nata per ringraziarsi, per ringraziarsi Trump sostanzialmente. Da lì a poco poi ha fatto questa sparata dicendo compro i social network. È stata una sparata perché ha rinunciato a quello che in termini tecnici si chiama due diligence, cioè a fare il controllo dei conti e di tutti i dettagli per vedere che non ci siano delle magagne nell'azienda. Lui ha fatto un'offerta esagerata, esplicitamente altissima, un'offerta altissima, esplicitamente rinunciando al diritto di andare a controllare che cosa stava comprando, dentro cosa stava comprando. Da lì a poco poi c'è stato... per fare questo ha dovuto raccogliere una cordata di soggetti che lo finanziassero, quindi ha dovuto fare debiti, ha dovuto mettere impegno proprio alle azioni di Tesla, eccetera. E poi è successo che i mercati tecnologici sono crollati. Crollato il mercato tecnologico, beh, la cosa si è trovata un boccone difficile da digerire. Per cui ha cominciato a dire, ma forse non lo compro più, mi hanno mentito, li porto in tribunale, però era ovvio che in tribunale non sarebbe andato da nessuna parte, perché lui aveva esplicitamente rifiutato, declinato il suo diritto di andare a guardare dentro nell'azienda per vedere se c'erano delle magagne. Lui si è comportato in modo disarticolato fin dall'inizio. Adesso si trova con un'azienda che Twitter ha sempre generato cassa e ha sempre fatto utili, fino al trimestre attuale. L'ultimo trimestre, sostanzialmente da quando Musk è entrato in partita, per motivi vari, la società ha cominciato a perdere denaro, non a livello di primo margine. Ecco, scusa se ti interrompo. Allora, Dorsey, il fondatore di Twitter, in queste ore ha interrogato un po' su quello che sta combinando Elon Musk, ha detto che è colpa mia se succede questo perché io mi sono trovato con una società che è cresciuta troppo in fretta. Si può dire questo? Beh, questo l'ha detto Jack Dorsey, il fondatore. Beh, sì, nel senso che è cresciuta troppo in fretta e lui l'ha abbandonata. Nel senso che questo si può dire perché a differenza di tutte le altre società informatiche americane, il fondatore, Twitter è l'unico caso dove il fondatore non è più il leader dell'azienda. Quindi, sì, l'ha abbandonata e è cresciuta troppo in fretta, lui ha preso e sostanzialmente l'ha lasciata al suo destino di società quotata pubblica, come dicono negli Stati Uniti, cioè società quotata sul mercato con azionisti indipendenti, eccetera. Però volevo tornare al fatto che Musk ha detto adesso io ho bisogno di tirare su perché la società perde a bocca di barile. Non è che tanto non perde a bocca di barile e le perdite comunque sono avvenute solo nell'ultimo trimestre, cioè era una società che non perdeva e adesso si trova ad essersi indebitato ad aver fatto un'offerta esorbitante dalla quale non è riuscito ad uscire e naturalmente deve cercare di ripagarsi con soldi generati dall'azienda, quindi deve cercare di spremere ogni dollaro possibile dall'azienda e quindi se ne sta inventando di ogni, dal licenziare una grossa fetta dei dipendenti andando a togliere interi reparti a questa idea di far pagare la spunta blu ad alcune persone, che magari ci può anche stare, adesso non voglio dire, vedremo, vedremo se avrà ragione, però certo che si sta comportando in modo un po' disarticolato. Faccio un esempio, ha tagliato tutto il team che si occupa di sostenibilità, quindi di diritti, di tutela delle minoranze, eccetera. Questa cosa gli si ritorce contro perché le aziende che hanno una gestione di politiche per la sostenibilità non possono rivolgersi a fornitori, se no poi lo devono spiegare i loro azionisti, non possono rivolgersi ai fornitori che non praticano politiche di sostenibilità, quindi in qualche modo le grandi banche, eccetera, non potranno più andare a investire pubblicità su Twitter e così facendo aggrava la sua situazione, è vero che ha tagliato un po' di costi, però questo è un errore, dovrà tornare indietro, dovrà rimettere una gestione delle politiche della sostenibilità. ha fatto una conference call con gli investitori pubblicitari e chi gli ha fatto delle domande che a lui non piacevano è stato bannato da Twitter, è stato bloccato da Musk. Un'altra cosa, solitamente verso fine anno i grandi investitori pubblicitari comprano, impegnano una quota di pubblicità per l'anno successivo, questo può essere più o meno un quinto dei ricavi dell'azienda, cioè io compro in anticipo, apprezzo ovviamente scontato che io compro in anticipo, una pianificazione su Twitter, Facebook, Google, eccetera, e in questa call, in questa vendita di questi spazi, Twitter ha avuto un crollo dei ricavi, hanno avuto un crollo, cioè le aziende che non investono più in pubblicità, cioè su Twitter, anche per queste ragioni che dicevo poco fa, quindi è veramente, si sta muovendo in un modo difficile da capire. Dunque, se io oggi o domani volessi scrivere una frase, diciamo, con dei contenuti non proprio in linea con la carta dei diritti dell'uomo, non faccio nessun esempio, perché allora non ci sarebbe nessuno in grado di poter controllare quello che io scrivo su Twitter, Oggi come oggi, dopo questa ondata di licenziamenti, senza i giorni di preavviso, così come hanno denunciato i dipendenti che sono stati? Adesso, io dico qui, parlo di impressioni totalmente personali, la mia impressione personale è che Twitter non sia stato un, ma nessuno, perché nessun social network è particolarmente efficace ed efficiente nell'interrompere la disseminazione di discorsi d'odio, eccetera. Fanno un po', ma hanno sempre fatto abbastanza poco, anche perché è molto difficile capire, alcune minacce sono messe in forma ironica o di sarcasmo, o ci sono dei sottintesi per i quali uno ha bisogno di conoscere la cultura, del posto, quindi mi rendo conto della difficoltà del tema, moderare queste cose è estremamente difficile. Twitter forse era uno di quelli che lo faceva, cioè in generale viene fatto male, Twitter forse era quello che lo faceva meglio. Adesso che ha licenziato tutte queste persone, vedremo cosa succederà, anzi lo stiamo già vedendo, stiamo vedendo il ritorno in forze di bot. Poi i brand non è che amano essere associati a contenuti diciamo obiettabili, objectionable come dicono gli Stati Uniti, legati a cose di violenza, eccetera, per cui anche questo sarà una fonte di perdita di contratti pubblicitari. Si sta infilando in un tunnel che è difficile capire. Magari questo fatto di dire che tutti devono pagare 8 dollari al mese per essere riconosciuti e quindi essere promossi dall'algoritmo in posizioni più visibili e quindi questa cosa terrà i contenuti più puliti perché c'è un'idea di base che ha Musk che è che se una persona è identificata si comporta meglio e quindi non scrive schifezze. Io su questo non sono tanto d'accordo, quindi la sua idea è li faccio pagare tutti così li identifico tutti e a quel punto non ci saranno più schifezze, faccio un algoritmo che divide in serie A quelli riconosciuti e serie B in fondo alla pagina dove non ci arriva mai nessuno, nel ghetto, arriva nel porto, nel quartiere del porto, dove ci sono tutte le altre schifezze, questa parte che tutti vedono, quindi non ho tanto bisogno di moderatori perché il discorso si pulirà da solo per effetto dell'identificazione. Può darsi che questo accada, io ho qualche dubbio, perché i principali disseminatori di discorsi d'odio, di fake news, eccetera, sono anche persone, sono anche celebrities, che vengono riprese, quindi vedremo, è un'altra scommessa, io ho qualche dubbio, però vedremo. Ecco, ma dunque, il fatto che lui, come si può dire, fa pagare la spunta blu, con tutti questi licenziamenti, allora lo possono controllare? Cioè io mi compro la spunta blu, ma mi compro la spunta blu o mi compro l'autenticazione della mia identità? Oppure i creatori di falsa identità possono, basta che pagano questi 8 euro, con quale sistema? No, il sistema, la sua idea è che, visto che per pagare usano una carta di credito, con la carta di credito sono rintracciabili, e quindi ho l'identità vera perché ho il nome della carta di credito, il numero della carta di credito. Il problema è che il discorso sui social diventa breve prima di diventare illegale, cioè non occorre che siano cose illegali, e se non sono cose illegali, e sono semplicemente violenza verbale, ma non sfociando nell'illegalità, il fatto che io sappia chi era quella persona, poco mi giova, perché non c'è un'autorità in grado di perseguirlo, quindi questa è una parte della risposta. La seconda parte della risposta è che è difficile, cioè oggi ci sono meccanismi, servizi, per generare carte di credito virtuali, ci sono dei fornitori di carte che ti consentono di avere un numero di carta per ogni singola transazione, e questo non limiterà quindi i bot e gli spammer e i troll del mondo, non li limiterà assolutamente. Quindi lui ritiene che questo pulirà Twitter, io ho qualche dubbio, sarebbe stato forse, però capisco che non c'è dappertutto negli Stati Uniti, negli Stati Uniti non c'è un sistema di identità digitale, non c'è neanche un codice fiscale, perché la social security number, il numero di cosa del servizio sanitario, diciamo, dell'assistenza sociale americana, il numero, è un numero che viene considerato riservato, quindi non può neanche essere, è considerato, le persone non lo condividono, e non c'è un altro identificativo che può essere usato per individuare le persone, quindi deve fare questa identificazione in diretta passando attraverso le carte di credito. Io ho molti dubbi che questo pulirà l'ambiente, perché alla fine dovrà tornare a sistemi di moderazione. Dunque, si monetizza Twitter, come avviene negli account di YouTube, non si può monetizzare nulla su Twitter, pensi che Elon Musk voglia monetizzare i tweet? Beh, vuole monetizzarli nel senso che vuole monetizzare attraverso questa divisione in serie A e serie C, e questo è il modo come lo vuole monetizzare, oltre alla pubblicità che c'è adesso, però la pubblicità gli sta andando male, come vedevamo, oltre alla pubblicità. Altro modo non c'è. Una cosa interessante, se vogliamo, un tempo fa, lo stesso Musk si era lamentato del fatto di come l'algoritmo, uno su Twitter può decidere di vedere i contenuti in base a una sequenza temporale oppure perché suggeriti da un algoritmo, e si era lamentato del fatto che l'algoritmo che suggerisce i contenuti fa vedere delle cose secondo dei criteri da lui non condivisi. E quindi si aveva fatto una denuncia contro questo dicendo sostanzialmente che i contenuti dovevano essere esposti su base temporale. Adesso sta facendo esattamente lo stesso che denunciava, cioè sta dicendo che l'algoritmo deve dividere tra serie A e serie B sulla base delle spunte ed essere lui quindi a decidere che cosa un utente vede e non la sequenza temporale. Comunque, tornando al punto della monetizzazione, oltre a queste due cose, pubblicità, si inventerà delle altre cose probabilmente, promozione dei tweet, che c'è già, voglio dire, però magari qualche modo per accentuare la promozione dei tweet, si potrà inventare dei contenuti aggiuntivi da attaccare. Certo, Twitter come lo conoscevamo prima ha destinato a cambiare molto. L'ultima questione prima di ringraziarti. Allora, tu quando hai visto che l'ONU ha chiesto, diciamo, a Elon Musk di rispettare i diritti, sei rimasto sorpreso. E se dovessi paragonare, diciamo, Musk al presidente del Consiglio di uno Stato, cioè, io la prima cosa che ho pensato, l'ONU queste raccomandazioni le fa e le rivolge agli Stati, a coloro che detengono la cosiddetta summa potestas. Allora, Elon Musk è diventato, diciamo, anche se non ha un territorio, è diventato come un leader mondiale, come può essere Biden o qualche altro... Beh, indubbiamente il potere di influenza è altissimo. Questo è fuori discussione. È sempre inferiore al potere di influenza dello Stato. secondo me faceva meglio l'ONU a dirigere il suo invito agli Stati Uniti. Peraltro, negli Stati Uniti c'è qualcuno che sta pensando di entrare nel merito della trattativa dell'acquisizione per questione di sicurezza nazionale, che quindi dà lo spazio all'esecutivo per poter intervenire. Questa è una cosa dalla quale si deve occupare chi ha la giurisdizione, quindi dal mio punto di vista dovrebbero essere gli Stati. Vedi, togliere... Io quando ero in Parlamento nella 17esima legislatura avevo presentato una proposta di legge a tutela di quello che in gergo viene chiamato l'anonimato protetto. L'anonimato è una cosa importante. Noi non possiamo dare per scontato che tutti i paesi dove si usa Twitter siano delle democrazie con uno stato di diritto che funziona. La verità è che nella maggior parte del mondo lo stato di diritto non funziona. Allora poter assicurare il fatto che non ci sia obbligare al fatto che non ci sia l'anonimato in alcuni paesi può essere un grosso problema. Può essere un problema che minaccia anche l'incolumnità fisica degli utenti. Cioè adesso è evidente basta pensare adesso a quello che accade in Iran. Una foto messa lì da una ragazza a capelli sciolti potrebbe farlo decidere di farlo su base magari ci sono gli eroi e va bene quelli lasciando a parte una persona normale può decidere di farlo semplicemente perché non si sa chi è. Invece se poi riescono a sapere chi è possono esserci delle gravi conseguenze e questo non è solo l'Iran purtroppo nel mondo ci sono una grande quantità di paesi autoritari dove lo stato di diritto non c'è quindi obbligare le persone o forzare spingere le persone a rivelare la propria identità e a consegnarla a Twitter è una cosa molto pericolosa è una cosa molto pericolosa cioè è chiaro che dovrebbe essere obbligatorio nel momento in cui c'è un reato la mia proposta di legge diceva che questa cosa deve diventare obbligatoria quando c'è un reato devo dare agli inquirenti il modo di risalire all'identità e avevo costruito un meccanismo per fare questo se non c'è un reato le persone vanno tutelate vanno tutelate e l'anonimato è una cosa che protegge le persone Twitter è un servizio che viene usato in tutto il mondo anche in paesi autoritari dove non c'è uno stato di diritto e il fatto di spingere gli utenti a rinunciare all'anonimato può essere qualcosa che li mette a rischio uno può dire vabbè ma l'informazione sull'identità ce l'ha Twitter beh ma sappiamo benissimo che gli archivi ogni tanto vengono trafugati cioè se i servizi segreti iraniani sarebbero lì a cercare tutti i modi di entrare e riuscire a rubare gli archivi per restare nell'esempio quindi obbligare gli utenti a rivelare la propria identità anche quelli che non lo vogliono fare può essere molto pericoloso e dovrebbe essere una cosa sulla quale potrebbe potrebbe intervenire il governo del paese dove sta quindi gli Stati Uniti quindi l'invito dell'ONU secondo me era meglio diretto agli Stati Uniti più che a Musk che può tranquillamente ignorare la cosa faranno qualcosa gli Stati Uniti ma secondo me allora intanto bisogna capire come vanno a finire le elezioni di midterm se i democratici riescono a conquistare questo potrebbe dipendere solo da come vanno le elezioni ma non da quello che dovrebbero fare le autorità politiche indipendentemente dal trend delle elezioni politiche e beh ma se vince se una camera capisco il discorso che hai fatto però se una camera viene vinta da Trump se una camera viene vinta dai repubblicani da Trump nei confronti del suo amico Musk non muoverà un dito quindi questo mi sembra abbastanza anzi bloccherà chiunque voglia muovere un dito nei confronti del suo amico poi lui lo riabiliterà questo lo deve fare per forza lo deve fare per forza il congresso degli Stati Uniti oppure può farlo un'autorità indipendente che si occupa del diciamo allora qui dipende da il punto è che per fare questo bisogna mettere mano a una particolare legge che è la sezione 230 del Communication Decency Act che è quella che sostanzialmente stabilisce i primetro di responsabilità degli operatori quindi bisogna andare a modificare quella legge per modificare quella legge devi passare dal congresso o dalla camera sia dalla camera che dal senato se Trump vuole modificarlo aveva fatto delle iniziative per modificarlo anche i democratici vogliono modificarlo però è che non sono d'accordo su come fare allora qualunque cosa vada a ledere gli interessi di di Musk se una camera va a maggioranza Trump figurati che c'è stato un senatore repubblicano che ha proposto una commissione di inchiesta per andare a indagare sulle aziende una commissione parlamentare di inchiesta per andare ad indagare sulle aziende che hanno deciso di non fare pubblicità su Twitter come se fare pubblicità su Twitter debba essere una cosa obbligatoria per una decisione del Parlamento americano capisci cioè è molto difficile è molto difficile che accada bisogna vedere quindi un intervento da parte del del governo del Parlamento americano dipende da come andranno le elezioni di midterm certo qua in Italia hai visto qualche cambiamento? no per adesso no per adesso non si percepisce nulla secondo me anche qui quindi prima vediamo come vanno le elezioni di midterm poi vedremo quello che effettivamente farà perché se uno dovesse basarsi sulle cose che ha detto Musk per andare a ne ha detto talmente tante in questa vicenda quindi prima bisognerà vedere chi vince le elezioni poi bisognerà vedere effettivamente che cosa farà e capire se a quel punto bisogna intervenire o no un'ultima cosa qua in Italia c'è un'autorità che può diciamo impedire che quello che decide Musk diventi legge anche qui da noi nel Twitter italiano scusa se faccio un ragionamento un po' che a te potrà sembrare un po' ingenuo ma questo tema la risposta è no non c'è nessuna autorità che può interferire quello che può interferire quella che può interferire è l'Unione Europea l'Unione Europea potrebbe prendere delle iniziative il mercato europeo è talmente grande che se l'Unione Europea decidesse una norma Twitter dovrebbe adeguarsi quindi a livello di Unione Europea sì potrebbe accadere qualcosa in termini pratici in Italia abbiamo una legge fatta passata con fiducia senza dibattito parlamentare eccetera durante il governo Compe 1 che che prevede una sanzione del 7% del fatturato mondiale di un fornitore di servizi internet grosso diciamo quindi anche Twitter multa del 7% se il servizio fosse non è accessibile per le persone per i disabili Musk ha licenziato l'intero gruppo che si occupa di accessibilità quindi adesso bisogna vedere sicuramente cambierà il servizio in linea teorica l'Italia potrebbe fare una multa del 7% del fatturato mondiale è una legge che è stata messa lì come tante leggi che prevedono delle pene altissime il fine è assolutamente nobile e condivisibile quando io sono stato Presidente del Comitato di Indirizzo dell'Agenzia per l'Italia Digitale ho fatto un solo comunicato stampa negli 8 anni in cui sono stato lì ed è stato per indicare un referente all'interno del Comitato di Indirizzo per le associazioni dei disabili quindi il tema mista a cuore quindi il fine è assolutamente nobile una norma di questo genere è assolutamente non applicabile esagerata e come tale non serve a nulla quindi è un contentino che però purtroppo non serve a nulla è stato e non è mai stata applicata e non verrà mai applicata va bene allora noi ci sentiamo la prossima puntata perché tanto Elon Musk non ci riserverà nuove sorprese e noi siamo non ci farà annoiare no non ci farà annoiare magari ecco ci rivediamo quando porterà i libri in tribunale non so se negli Stati Uniti succede funziona anche lì così ma sì diciamo che lui è molto indebitato ha dovuto mettere molte azioni a garanzia e non è assolutamente ovvio che il che riesca a generare tutta la cassa che gli serve per onorare i suoi impegni da Twitter quindi è in una situazione obiettivamente molto difficile adesso gli auguriamo di non fallire perché comunque è una persona che ha fatto delle cose incredibili e speriamo che continui a farne di cose positive questa di Twitter è una roba che è nata male per ragioni politiche sta proseguendo peggio va bene ma come sappiamo al peggio non c'è mai fine io con questa bella battuta io ringrazio Stefano Quintarelli con il quale abbiamo parlato di Elon Musk e di Twitter di questo sequel che continuerà nelle prossime settimane grazie e l'appuntamento è arrivederci a presto purtroppo grazie a Stefano Quintarelli grazie grazie a tutti